Ciao a tutti, la mia amica Hortensia mi ha chiesto di leggere per voi una fiaba armena e quindi eccoci qua questa fiaba si intitola chi scava un pozzo ci cade dentro forse c'era forse non c'era una volta un venditore di bibite ogni giorno andava in giro e ad alta voce gridava comprate le mie bibite chi scava un pozzo ci cade dentro comprate le mie bibite chi scava un pozzo ci cade dentro comprate le mie bibite chi scava un pozzo scandiva ogni giorno queste strane parole e vendeva una volta arrivò di fronte al palazzo del re e come sempre comprate le mie bibite chi scava un pozzo ci cade dentro comprate le mie bibite chi scava il re fu di quelle parole e gli ordinò di avvicinarsi andò in cerca di un bel regalo e glielo diede dicendo bravo dici bene dici bene continua così il visir vede che il re aveva fatto un bellissimo regalo a un venditore l'ambulante non disse nulla ma il cuor suo era molto invidioso e fra sé e sé pensò il re non ha mai pensato di fare un regalo a me suo visir e colma di toni quello sconosciuto decise di vendicarsi in qualche modo un giorno andò dal re e gli disse che tu viva a lungo mio sovrano ho visto che hai dato del denaro al venditore di bibite ma non sai che quello è andato in giro dicendo che ti puzza l'alto il pomeriggio seguente il venditore di bibite passò di nuovo vicino al palazzo del re il re lo chiamò e gli disse aspetta qua devo consegnarti una lettera e tornò con la lettera che era destinata ai fabbricanti di sapone portami la risposta aggiunse quello si avviò a eseguire il compito che gli era stato affidato dal re lo raggiunse il visire e gli chiese cosa ti ha dato il re? una lettera una lettera una lettera per i fabbricanti di sapone in cambio riceverò da loro un bel regalo ma sai dove si trova la fabbrica? no, per la verità non lo so allora andrò io al tuo posto aspettami qui e ti porterò il regalo il venditore di bibite ascoltò al visire e gli viene la lettera il visire arrivò alla fabbrica di sapone consegnò la lettera e la diede al direttore quello la lesse e detto fatto fece imprigionare l'uomo e lo fece gettare in un enorme recipiente di rame dove bolliva il sapone anche il visire divenne sapone il venditore di bibite intanto lo aspettava per ricevere il suo regalo aspettò un po' aspettò poi un altro po' e ma quello non veniva lui si stufò e se ne tornò a casa il giorno seguente passò come al solito davanti al palazzo del re comprate le mie bibite chi scava un pozzo ci cade dentro comprate le mie il re lo udì e lo chiamò subito a sé quello si rivolse al re con queste parole che tu viva a lungo cosa desideri e il re ieri ti ho dato una lettera cosa ne hai fatto che tu viva a lungo mio re sono stato raggiunto dal visire che mi ha chiesto di consegnargliela e di aspettarlo che mi avrebbe portato il regalo l'ho aspettato a lungo ma lui non è più tornato e io me ne sono tornato a casa ecco cosa è successo il re capì ogni cosa e disse bravo bravo venditore di bibite che la tua vita si allunga sono proprio giuste le tue parole e si allontanò per un attimo per tornare con un regalo ancora più splendido del precedente